Ma benessere è anche cosmesi, vegana, antigravità. Ruben, parlaci di questo prodotto. Certo, volentieri. Il fior di linfa è un prodotto completamente naturale, ma non solo, è un prodotto che ha delle connotazioni di prodotto commestibile, quanto naturale non è sempre sinonimo di atossico, sono prodotti naturali che creano tossicità nel corpo. Il fior di linfa è un prodotto che estrapola il meglio della natura, dalle erbe. Nel particolare noi abbiamo questa tintura madre che è formata da paretaria, bardana, malva, cortica, camomille e menta. Facciamo macerare queste erbe in alcol etilico, proprio l'alcol buon gusto, con l'aggiunta di olio a severgine di oliva. È un prodotto che ne fa una matrice commestibile, ma non per questo non efficace sulla pelle, tant'è che ha delle caratteristiche di depurazione e detossificazione molto apprezzate in campo estetico. L'effetto, per intenderci da un punto di vista tecnico, è paragonabile a quello degli acidi aluronici o degli elasteni, dei collageni. Proprio perché andando a depurare la pelle, le trame epidermiche, eliminando le scori, i cataboliti, le tossine, si riaggrega ed ha questo effetto tanto apprezzato in campo estetico sia dall'uomo che dalla donna.